Bella ragazzi, ora rifaremo un altro video su i Valleggi Challenge perché ieri il nostro amico Deoardo aveva messo in pausa il video e non l'ha più rimesso, cioè Valleggi li abbiamo fatti ma col video in pausa il buffoncello, allora il primo sono io, una possibilità 2, 3, 4, 5, 6, 6, ne ho fatti esattamente 7 è stato molto bravo, scrivete nei commenti, mi raccomando se siete molto attenti al video, scrivete che ne ho fatti 7 ora tocca a me, ora tocca a Flavio, dai è il pro, il prosciutto, prosciutto e mortadella, la provola dai il prosciutto, dai il prosciutto, 2, ragazzi ne ha fatti 2, solo che la Valleggi è proprio partita ora arriva Giuseppe è quello bravo, ne ha fatto 1, ha toccato pure con me, ne ha fatto 1 quindi il primo è stato Matteo, il secondo sono stato io, il terzo è stato Giuseppe ora continuiamo, ora il nostro amico mette un attimo un po' so che ci spostiamo ok ragazzi per questo video è tutto, era quello di Chiari, ora ha vinto Matteo, ha vinto Matteo e ora nel prossimo video, e poi faremo pure un video di paura, sarà bellissimo ragazzi ok ragazzi e ci riusciamo gente ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi